Alberto, com'è l'ACAB Opel Forum? Fantastico Ma perché? Perché motivo? Perché ci sono voi e tutto l'ACAB Voi chi? Voi ragazze dell'ufficio vendite che seguite i clienti benissimo Ma cosa ci regale Natale? Condizionata da un litro di clinto Cosa ci regale Natale? Aspetta che sto registrando 999 licenze di Casera Guarda che ti è arrivato il dolce 999 licenze di Casera